Quest'applet virtuale di Amal dimostra la magnetizzazione del ferro, una magnetizzazione solo temporanea. Prima si prende un magnete permanente, cioè un pezzo di magnetite, che è un minerale magnetizzato. Se si avvicina a delle puntine di ferro le attrae. La magnetite è un magnete naturale. Invece una normale asta d'acciaio non è magnetizzata e non è in grado di attrarre pezzettini di ferro, come le puntine. Se però la si mette in contatto con un pezzo di magnetite, si magnetizza l'asta d'acciaio e a questo punto è in grado anche lei di attirare le puntine di ferro. L'acciaio è una sostanza ferromagnetica che può essere magnetizzata. Questa magnetizzazione però è soltanto temporanea perché se uno toglie il contatto con la magnetite, l'asta d'acciaio perde la sua magnetizzazione e le puntine cadono.